A Roseto la vicenda del momento è quella legata ai T-Red, i due dispositivi messi negli impianti di Santa Lucia e Colonia Spiaggia. Sabato scorso c'era stata la conferenza della consigliera di opposizione Teresa Ginobble in cui lamentava delle irregolarità riguardo la posizione dei due T-Red e dei noleggi. Non si è fatta attendere ora la risposta del primo cittadino rosetano Mario Nunez per quest'ultimo irregolarità che non esistono, confermando come la posizione dell'Ede sia assolutamente tranquilla. Mi è parso di ascoltare un'istigazione a rinfrangere il codice della strada. Cioè chi è con il comma 3, articolo 3 comma 3 dell'articolo 146 ha infranto il codice della strada passando con il rosso e istigato a non pagare una multa. Secondo si parla di una sentenza della Cassazione che in qualche modo dovremmo approfondire, dovremmo sicuramente valutare. Di certo ci sono delle questioni tecniche perciò interesserò sia il comandante che il segretario generale ma di fatto questa amministrazione ha dato input alla parte tecnica con il PEG e il piano esecutivo di gestione di inserire due impianti di controllo del rosso semaforico per la sicurezza. Per far ciò abbiamo fatto due atti importanti. Il primo ha chiesto alla parte tecnica appunto al comandante di fare un'analisi dell'indice di incidentalità e sulla scorta di quell'indice di incidentalità oggettivo che si è posto, che sono posti i due impianti semafori. Tra l'altro rafforzati dalla richiesta di parere fatto ad ANAS rispetto alla possibilità su quei due impianti di inserire e installare questi T-RED. Quindi la volontà manifesta della maggioranza di inserirli a Santa Lucia e quindi all'ingresso della città e a Cologna Spiaggia sul semaforo appunto dell'incrocio tra via della stazione e la statale 16 penso che sia incontrovertibile. E' appunto su questo tema che noi dobbiamo confrontarci, sulla sicurezza stradale e anche rispetto alle allusioni fatte dalla consigliera rispetto alla tempistica. Penso che lei che ha amministrato per oltre 30 anni questa città dovrebbe conoscere i tempi della burocrazia e fare quelle allusioni mi pariano dalla prima epoca dei cosiddetti grillini che erano un po' populisti. Non ce la vedo proprio a fare questa politica.